La città di Chieti non è contraria al progetto. Questo in estrema sintesi quanto venuto fuori dalla prima giunta politica dedicata all'analisi del piano di velocizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara. Si tratterebbe, secondo l'amministrazione, di un'opportunità fondamentale per lo sviluppo economico, turistico e infrastrutturale della città, anche perché gli interventi verrebbero finanziati dalle risorse del PNRR. Il cronoprogramma dei lavori di avvicinamento sono stati raggruppati su tre livelli, come conferma il presidente del Consiglio Comunale della città teatina, Luigi Febo. Una è quella proprio tecnica che sta facendo gli uffici, che stanno portando avanti gli uffici, sull'analisi tecnica del tracciato e eventuali interferenze. L'altro invece è l'ascolto con i cittadini rispetto a queste emergenze che sono chiare e evidente, le interferenze che ci sono. E il terzo punto, ancora più importante, è quello di un colloquio con RFI e con i comuni vicinori, San Giovanni e Manoppello, perché noi crediamo che questo sia un'occasione importante per la città, ascoltando le esigenze, le giuste esigenze dei cittadini, ma è un'opera infrastrutturale importante e nell'ottica di migliorare la sicurezza e anche rispetto all'ambiente. Il primo passo è quello di incontrare pubblicamente, anche attraverso un Consiglio Comunale straordinario, l'amministratore delegato di RFI, affinché quest'opera si realizzi nel modo più indolore possibile, studiando soluzioni alternative per i tratti più impattanti, sia dal punto di vista antropico che economico, geologico nonché ambientale, vista la presenza del fiume.